Grazie a tutti i miei saluti ai partecipanti, i miei complimenti alla manifestazione che da tanti anni ormai rappresenta un punto di riferimento importante. Per la lingua e la cultura sarda. È un appuntamento, il più importante appuntamento di poesia, ma io direi più in generale di valorizzazione della lingua e della cultura sarda. Chi ha lavorato questo premio ha lavorato per lo strumento più importante di valorizzazione della lingua sarda, che è la Legge 26, e quindi essere qui per me è un piacere, un onore, è anche un momento di ascolto e anche di godimento della poesia della nostra terra. Sembra impossibile, è un miracolo, che si possa raccogliere un convivio così qualificato, così grande, così rappresentativo di artisti e di poeti. Sembra inimmaginabile. Un miracolo lo definisce il sindaco Diozzieri l'insieme dei tanti studiosi, esperti ed artisti che si prendono cura della nostra lingua, la correggono, la fanno evolvere e la fanno rivivere in prose e poesie. Artisti e poeti di calibro che, provenienti da tutta l'isola, danno vita, come ogni anno, ad una gara intensa e di grande valore culturale. Arduo dunque il compito della giuria, che quest'anno innova e subisce qualche cambiamento. La giuria è uno dei capisaldi sui quali si poggia il nostro premio e quest'anno, dopo 35 anni di presidenza, il professor Tanda passa il testimone. Però il testimone è passato e passerà stasera ad una persona sicuramente validissima. Ringrazio di aver avuto, come dire, la fortuna di poter lasciare il mio posto ad Attilio Mastino. L'impatto attualmente. Siamo su una linea di continuità con il passato, ma naturalmente il premio di Ossieri veramente deve crescere, deve rappresentare un punto di riferimento, deve affermare delle norme ortografiche per un sardo che sia riconosciuto a livello come lingua, deve favorire lo sviluppo della lingua sarda. Credo che la poesia possa essere l'elemento catalizzatore per un pensiero nuovo sulla Sardegna, per definire meglio l'identità dell'isola che si proietta verso un futuro di relazioni e di rapporti a livello internazionale. Si conclude con le premiazioni di rito il 55esimo premio di poesia sarda Città di Ossieri che più di altri anni ha avuto una cospicua partecipazione di giovani e talentuosi poeti che hanno dimostrato grande competenza e bravura e che fanno ben sperare nel futuro della nostra lingua. Grazie per la visione!